URAAAA! Cosa? Eh, la rimbronchetta è l'intervista, Giorgio. Ma se vuoi avessi l'inizio, la vera e la visualizzazione da fare, noi abbiamo tutto fatto sull'istinto! Ma vero? Nooo! Scusa! Le umanizzazioni, quello che vediamo subito. Allora, io sono caparettista, scrivo le cose e lui improvvisa le ripresa. Qualsiasi parola voi diciate e lui impresa. Per esempio, questo bel ragazzo con la maglia non simbolizzata, eh? Troppo a scriverlo. Mi dici una parola falsiastica in testa che non comincipereste, che tu avresti aprirlo, eh? SESTA! SESTA! Attenzione! Lui metterà una battuta in tre secondi. E' in 3, 2, 1... FESTIVAL! Ma questa qua non è rimasto sotto il pentone? Ah, già sto parlando sulla tavola, guardate! Ma non vediamo la parola in testa, invece c'era una battuta. Vediamo il centro qua. Ehm... Sì! Un attimo. Due... Scusa! 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 Allora! Mi deve poi mettere questo tipo di... Ah, SROCE! Goal! Che cosa ti chiami? Andrea. Andrea. E' un creditiamo sia o no? NOOOOO! Allora, metta la tutta il migliore successo! La tutta la migliore che hai! Voi, ma vabbè, e il prodotto non è facile. Non è facile! Da ridendo, fai le un sort di quelle preparate che fa sanzorire, guarda che il tuo rosto non da ridere, ma guarda, guarda che gli angli è diventato! Era quello che ha segnato un grado alla torta e era fatto tutto. Ah, è diventato anche la battuta! Vabbè, vai. Quanti sentire? Bianca, eh. Però qua è inutile, quando la serata di queste c'era... Ah, la sua battuta... Canibaldi, quando partì da quarto, arrivò a Martana, scende dalle banche e diceva... Ah, grazie! Mille! Nooo! Questo è la sua battuta più forte. Nooo! Hai capito? Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, ah! Stai capito? Stai capito? E' la sua vita. Eh, grazie perché... Ancora di cannigere! Ah, 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 ah! Ma non è che l'hai capito tutti, ma non cannigere! A me è che lo hanno cambiato! Eh, ma quello è così, eh! E' molto meno... Comunque, noi nel nostro spettacolo ci interroghiamo su cosa faccio ridere, è scare o ridurla di forzione. E allora, amici, ma voi, e cerchiamo di far vedere che cos'è il mondo dell'ipolitizzazione, che cos'è il mondo dell'ipolitizzazione. Sì, ma voi avete capito, ma questa è anche prima, questi vogliono scaldare, c'è che ha fatto 400 km. 400 km! Perché se hai fatto un paese non erano più 800, se hai fatto un paese a prendere... Ma che hanno fatto un navigatore rumeno, frittano, rumeno! Girobello a finire! Girobello a finire! A presto, ma voi siete dovuti andare sul montagna a prendere lei? Ma questa è buona, pavete lo ragazzo là! Questa è buona, ma questo è un progetto! Ma non è una serata, comunque c'è lì, in provvisto a scendere tra le campanelle di Cristina, quindi non ritorniamo al villaggio! No, non è un pensiero! Volete farlo in scena pubblico o no? No signore, per se che non vi farò in scena no! Quanta euro a testa di portafoglio, volete farlo in scena pubblico? No, non lo faccio! No, non lo faccio! In altre vogliono i soldi! Vi do 500 euro in una rata del mutuo! Non è un pensiero pubblico? Siiii! E poi era un pensiero pubblico! Non lo facciamo in scena pubblico, dai! No, non lo facciamo in scena pubblico, dai! No, non lo facciamo in scena pubblico! はい! Allora, maschiamo il soldi!! i soldi al sol conoscete… Winchiaaaaa! E ora... potremmo anche far più! Oggi non possiamo fare un palazzo qua... potremmo fare anche una ma Laboratrinata e tutto, ora... Stiamo su, siamo su, e poi qui a bambino, guardiamo questo palazzo... cosa facciamo un palazzo... Dio, il palazzo nel nostro smalzo... l'opinola, guardate... Bene, ora! avrete tutto meglio immaginare di essere